Cari amici bentornati, allora è arrivato il momento di affrontare il mostro finale del Gambetto Belgrado, la variante più ostica, quella che ancora ci rimane l'unica per chiudere finalmente questo filone del nostro repertorio. La mossa di cui parlo è la sorprendente Alfiere C5, dico sorprendente perché non è una mossa molto giocata, a livello magistrale si trovano davvero pochi esempi quindi anche noi dovremmo muoverci diciamo su un terreno abbastanza inesplorato, che è una cosa bella proprio perché appunto ci fa capire quanto il Gambetto Belgrado sia ancora interessante da analizzare. Online viene giocato più spesso, ma questa cosa non deve spaventarci, anzi la mossa Alfiere C5 infatti è una mossa molto compromettente in cui il nero sta puntando tutto il suo gioco praticamente sulla difesa del pedone D4. Ora questa avidità è in genere più propria onestamente dei giocatori principianti perché i giocatori magistrali sono consapevoli dei rischi che incorrono nell'essere così materialisti, nel puntare a una difesa così estrema del materiale. In effetti diciamo questa posizione mi ricorda una posizione che vidi nella partita di Fisher contro Fine nelle sue 60 partite da ricordare. Era una partita amatoriale, nel senso non di torneo giocata se non ricordo male a casa dello stesso Fine e in effetti proprio per questo motivo diciamo il giocatore americano di nero si lascia andare ad una gestione del gambetto Evans giocato da Fisher molto materialista. Vediamo rapidamente questa partita per farvi capire quello di cui parlo. Ecco in questa posizione il nero naturalmente deve cercare di completare il suo sviluppo il prima possibile giocando cavallo F6 o cavallo E7 o magari rientrando con l'alfiere B6 al prima possibile. Invece Fine giocò la presa in C3 e Fisher commentando nel suo libro disse un po' troppo avido e in effetti questa avidità verrà rapidamente pagata dal nero. Donna B3 andando subito attaccare il punto F7, Donna E7 per difenderlo sarebbe stato migliore Donna F6 ma insomma adesso non entriamo nelle fasi di apertura. Il bianco riprende il pedone in C3, cavallo F6 e qui il bianco inizia subito ad entrare nello schieramento del nero, cavallo D5 costringendolo al cambio, aprendo la colonna e attaccando il cavallo in C6. Il cavallo va in E5, il cambio naturalmente non favorisce il nero perché il cavallo in C6 era uno dei pochi pezzi sviluppati. Alfiere B2 e già si iniziano a sentire le campane a morto per il re nero. Donna G5, la donna errante naturalmente non poteva sfuggire a Fisher tra i tanti modi di vincere questa brillantezza. Alfiere G7, torre G8 e qui diciamo Fisher non si lascia sfuggire un tema tattico di deflection. La donna viene allontanata dalla diagonale cruciale e quindi se la donna andasse a prendere in G3 seguirebbe Alfiere F6 scacco, quindi il bianco con soli due pezzi infligge lo scacco matto al re nero e quindi dopo donna G3 il nero ha abbandonato in questa che come detto è una partita non di torneo. Però ecco questa partita mi rimase sempre impressa per capire quanto in una posizione del genere fosse pericoloso andare a catturare materiale e cercare magari poi di difendere il pedone in C3. Qui siamo in una situazione leggermente diversa, il pedone D4 naturalmente è un po' più importante del pedone C3, però per difendere questo pedone il nero deve utilizzare entrambi i suoi pezzi cavallo C6 e alfiere C5 sviluppati. Qui cosa può fare il bianco? Allora attenzione iniziano già i momenti delle scelte importanti. Alfiere F4 andando ad attaccare il pedone C7 sembra naturale, per lungo tempo lo è stata considerata, ma il nero ne esce meglio andando semplicemente a sacrificare il pedone C7. Qui se il bianco va a catturare di cavallo allora cavallo H5 attacca l'alfiere e naturalmente l'alfiere non può più difendere il cavallo sulla lunga diagonale, in quanto se si ritira in G3 viene semplicemente cambiato il nero poi dopo può andare a catturare il cavallo errante in C7, quindi deve andare a catturare di alfiere. Però donna è 8 e qui i pezzi del bianco hanno finito la loro azione, ma il bianco non ha completato adeguatamente il suo sviluppo e adesso il pedone E4 è sotto attacco. Il bianco si è vero può catturare in F6, sembra che questa impedonatura sia naturalmente disagevole per il nero, ma non è poi così importante. Naturalmente il vantaggio di sviluppo del nero che a questo punto ha, naturalmente che può attaccare in F5, è particolarmente importante e prevale su tutto. Il bianco può cercare di completare lo sviluppo, ma qui attenzione con D6 l'alfiere è tagliato fuori e non può più rientrare, quindi se il bianco distrattamente arrocca dopo donna E7 ecco qua che l'alfiere è catturato nello schieramento del nero. Quindi questa è una variante molto pericolosa. Ci sono alternative? A3 preparando B4 è una variante che ho analizzato molto, però diciamo il nero ha molti modi di procedere e tra gli altri può anche andare a prendere semplicemente il pedone in E4. Alfiere D3, nello spirito che abbiamo visto giocare molto spesso nel bianco contro il gambetto Belgrado, ovvero quello di cercare un compenso di lungo termine lasciando il pedone D4 al momento al suo destino cercando un rapido sviluppo e un'azione rapida degli alfieri. L'abbiamo visto ad esempio nella variante contro alfiere E7 del nero. Però qui il nero può semplicemente ritirare e dopo donna E2 scacco, re F8, grazie al fatto che l'alfiere è già uscito in C5 e quindi ha lasciato la casa F8 libera per il re nero. Naturalmente la variante può essere continuata, però insomma mi sembra che il compenso del bianco sia un pochino deboluccio, almeno dal punto di vista teorico, poi in partita si può giocare di tutto. Quindi escluse queste due possibilità, alfiere F4 e A3, rimane naturalmente quella che appare più naturale, ovvero alfiere G5. Questa inchiodatura è estremamente fastidiosa e anzi ci si chiede se il nero non sia stato troppo prematuro a sviluppare l'alfiere in C5 e in effetti qui praticamente l'unica mossa ragionevole è quella di tornare con l'alfiere indietro, perché giocare una mossa non so come D6 qui sembrerebbe davvero scelerato perché il nero non può più opporre niente a questa inchiodatura e il bianco può considerare una mossa donna D2 con l'idea donna F4 triplicando l'attacco sul cavallo in F6 e facendo crollare le difese del nero. Quindi alfiere E7 sembra l'unica mossa ragionevole, allora si potrebbe dire che il nero ha perso sostanzialmente un tempo sviluppando prima l'alfiere in C5 e poi ritornando in E7. Però attenzione, questa perdita di tempo arriva con una minaccia adesso da parte del nero, ovvero stante così le cose il nero sta minacciando la cattura a cavallo D5 con l'idea naturalmente che se il bianco andasse a catturare in E7 allora il nero potrebbe tornare indietro con il cavallo e ricatturare quindi rimanendo con un pezzo in più. Quindi facciamo un esempio, se il bianco giocasse A3, una mossa adesso giusto per passare il tempo, il nero vincerebbe giocando cavallo D5 e qui E per D5 naturalmente viene alfiere per G5 mentre alfiere per E7 semplicemente il cavallo torna indietro. Quindi paradossalmente questa perdita di tempo del nero però ha messo in campo anche una minaccia, quella appunto di cavallo D5 che il bianco può sventare ragionevolmente soltanto andando a prendere in F6. Ora tornare in F4 praticamente ci farebbe tornare un po' nella variante che abbiamo visto prima ma non sarebbe una buona idea. Dopo alfiere F4, d6, a questo punto il nero non deve neanche andare a sacrificare il pedone C7, cavallo per D4, arrocco corto, rientriamo in una variante che se vi ricordate abbiamo analizzato nella variante, nella puntata in cui abbiamo visto l'immediata alfiere E7 del nero. Però su alfiere E7 noi non consigliamo alfiere F4 ma consigliamo, vi ricordate, alfiere D3. Quindi insomma ci porterebbe fuori dal nostro repertorio. Quindi alfiere G5, alfiere E7 qui l'unica soluzione ragionevole è andare a prendere in F6. E ora qui c'è un bivio importante. Siamo già in un territorio veramente visto in pochissime partite di torneo e un pochino più partite online ma veramente poche. Quindi come dire ci muoviamo su un terreno abbastanza vergine. Qui vi offro due soluzioni perché onestamente la linea principale che propongo contiene dei rischi strategici per entrambi i giocatori. È una variante piuttosto rischiosa quindi voglio offrire però anche una variante più solida per chi magari preso alla sprovvista non vuole rischiare nulla. Allora la variante più solida da cui inizierei è quella semplicemente alfiere B5 ovvero il bianco completa lo sviluppo, minaccia la presa in C6 e la ricattura del pedone D4. In questo modo diciamo non si sta puntando tanto a un vantaggio quanto a una semplificazione che poi diciamo se il nero non sta attento può anche però portare un vantaggio. Vediamo un attimo come il gioco può procedere. Arrocco corto qui allora una delle poche partite diciamo che sono riuscito a rinvenire online ha visto il bianco giocare l'arrocco corto, il nero ha risposto con A6 andando a provocare quindi la cattura in C6, cattura in F6, cattura in D4 e qui il nero evidentemente non aveva grandi ambizioni e ha cambiato anche le donne. La partita è continuata rapidamente C5, cavallo E2, F5, cambio in E4, B6. Quindi facciamo una prima analisi della situazione. Il nero ha quattro pedoni di cui però due doppiati sull'ala di donna quindi da un punto di vista strutturale il bianco ha una struttura pedonale leggermente migliore perché la sua maggioranza pedonale è sana 3 contro 2 e senza doppiature. Tuttavia il nero ha onestamente il miglior pezzo minore quando ci sono pezzi su entrambi i lati della scacchiera, chiaramente l'alfiere è leggermente superiore al cavallo. E in effetti torre E1, alfiere F5 e qui dopo torre E2, puntando naturalmente a controllare la colonna E, la partita è stata dichiarata patta tra due giocatori Bernaschi e Pretke, due 2600 elo, una partita del 2019. Evidentemente i due giocatori non erano in grandissimo intenzione, non avevano spirito molto combattivo quel giorno. Però questa partita insomma ci fa capire che dopo alfiere B5 il bianco non corre veramente alcun rischio. Anzi, secondo me, rispetto alla partita che abbiamo visto in cui il bianco ha giocato a Rocco Corto e il nero ha giocato A6, qui il bianco può anche fare qualcosa di meglio. Infatti dopo la Rocco Corto, diciamo più che A6, tanto voglio dire la presa in C6 prima o poi il bianco dovrà farla, se intende recuperare il suo pedone in D4. Quindi io fossi il nero continuerai il mio sviluppo semplicemente con D6. E se qui il bianco va a fare la stessa sequenza di mosse per catturare il pedone in D4, ecco qua che ora C5 è vero che non c'è più A6, no? E quindi il bianco può giocare cavallo B5, ma siamo sicuri che questo sia un risultato positivo da parte del bianco. Dopo torre B8 il controgioco su B2 mi sembra molto più importante della cattura del pedone C7. Tanto che dopo l'immediata cavallo C7 torre B2, onestamente io inizierei quasi a preferire il nero. E proprio per questo motivo quindi il bianco farebbe bene a cercare di consolidare il cavallo in B5 più possibile, far perdere un tempo al nero con A6 o con alfiere D7 e soltanto dopo quando ormai non si può più quindi mantenere il cavallo in B5 e andare a prendere in C7. Ora almeno la spinta in C4 ha tolto il pedone C2 dall'azione della torre in B2. E questa posizione è pari, è patta, però insomma forse il bianco deve stare un pelino attento a non lasciarsi influenzare dal tentativo di difendere i suoi pedoni. Meglio controgiocare subito, la patta si raggiunge meglio diciamo con un equilibrio dinamico che cercando di bloccare la situazione, anche se appunto il cavallo non è proprio il pezzo migliore in questo frangente. Chiaramente l'alfiere ha un'azione più interessante in questo momento del cavallo. Quello che può fare il cavallo è andare in D5 ma diciamo non può mantenersi stabilmente lì perché il nero può già pensare di attaccare i pedoni i pedoni C4 ed E4 da dietro con la torre quindi insomma il cavallo a questo punto ha più uno scopo difensivo che di attacco. Quindi dopo alfiere B5 arrocco, io non consiglio di arroccare subito ma consiglio di andare subito a prendere in C6 ed effettuare questa sequenza di cambi e chiedere al nero che cosa intende fare prima di dare al nero un tempo aggiuntivo. È vero che il bianco quindi rinuncia all'arrocco ma il nero adesso deve subito decidere cosa deve fare e questa informazione è molto importante. Perché? Perché se il nero andasse a catturare, ora è chiaro che avere il re centralizzato non è così male, anzi dopo un'eventuale F3 necessaria per difendere il pedone E4 il bianco può anche considerare di giocare re F2 e rimanere con il re centralizzato senza mandarlo insomma nell'angolino e questo sicuramente è meglio. Quindi in questa posizione se il nero vuole continuare a giocare e soprattutto non finire in posizione inferiore deve pensare di mantenere la donna in gioco. Come può farlo? Potrebbe farlo in F4 magari minacciando torre 8 e raddoppio della pressione sul pedone E4 o può farlo con donna H6. Donna F4 di nuovo qui il bianco deve fare un attimo di attenzione perché se arrocca come detto torre 8 ecco qua che il pedone finisce sotto attacco il bianco il nero minaccia anche a fiere G4 cercando di eliminare il cavallo insomma le cose possono mettersi rapidamente male. Quindi serve un'ultima mossa precisa donna E5 costringendo il nero al cambio praticamente perché a questo punto naturalmente il nero non può più ritirarsi appena la perdita del pedone C7. Quindi il nero il bianco a questo punto deve cambiare e dopo torre 8 voi direte ok ma il nero cattura il pedone e no qui c'è l'ultimo attenzione perché arroccando lungo naturalmente il nero non può andare a prendere la torre perché prenderebbe il matto sull'ultima traversa. Quindi qui il nero deve perdere un tempo giocare F6 cavallo F3 e attenzione il pedone viene perso ma il controgioco sull'ultima traversa dà al bianco almeno la parità. Qui è sicuramente il nero che deve stare molto attento a capire come sciogliere i suoi pezzi e in effetti qui il bianco la cosa migliore può fare eliminare l'unico pezzo attivo del nero che è la torre proponendone subito il cambio. Il nero non può evitarlo e qui per lui si fa difficile capire come sciogliere i pezzi mentre la torre bianca può sicuramente andare a infastidire i pedoni sull'ala di re da dietro quindi qui il bianco ha sicuramente almeno la patta. Altrimenti donna H6 abbiamo visto e anche qui a rocco corto torre 8 torre 1 quindi si va a difendere qui è il nero che deve stare attento alla sua mossa migliore che può fare. Qui cosa sta minacciando il bianco? Allora il bianco vede di buon occhio il cambio delle donne perché chiaramente cambiando le donne si riduce il potenziale offensivo del nero. Qui è il nero che può in qualche modo immaginare un attacco con alfiere G4 torre D8 attaccando la donna quindi qui il nero ha un pelino di vantaggio dinamico quindi il bianco deve stabilizzarsi e come fare? Quindi il bianco vorrebbe giocare non so donna E3 o donna C3 togliendo la donna dalla posizione esposta centrale poi rimuovendo il cavallo quindi il cavallo si trova molto bene in D4 eventualmente consolidando il tutto con il pedone F3 e dopo di che il bianco può iniziare a manovrare. Quindi proprio per questo motivo per evitare donna C3 che bloccherebbe il pedone C6 a quel punto il nero non potrebbe più giocare B6 perché perderebbe il pedone C6 allora preventivamente il nero deve giocare B6 in quanto ora dopo donna C3 naturalmente seguirebbe C5 e allora il bianco va nell'altra direzione donna E3 proponendo il cambio. Qui naturalmente la partita può continuare se il nero decide di cambiare il bianco ecco gioca cavallo D2 consolida il pedone giocherà F3 e la posizione poi sarà rapidamente patta. Oppure il nero può continuare nella sua idea di non cambiare le donne quindi giocare donne F6 ma a questo punto cavallo D4 chiude la diagonale il nero naturalmente puntava il pedone B2 e si prepara a giocare F3. Ora al di là di tutte le varianti specifiche quello che rimane è che questa posizione è comunque una posizione ancora con una certa tensione ancora con un certo squilibrio come detto il bianco ha una struttura pedonale migliore pedone centrale maggioranza pulita di 4.3 il nero invece ha una maggioranza mozzata dalla presenza della doppiatura però ha il pezzo minore più di lungo coraggio e un leggero insomma vantaggio di sviluppo grazie al fatto non so che dopo donna B6 a fiere B6 torre D8 le sue torri agiscono molto bene al centro quindi insomma ecco la posizione però rimane interessante certo a un certo livello questa posizione viene considerata abbastanza sterile no se si scontrano due grandi maestri da 2006 insomma è difficile che uno dei due commetta così tante imprecisioni da rendere questa posizione alla fine problematica però voglio dire non è una posizione che si patta a occhi chiusi ed è questo quello che a noi interessa poi come detto questa è l'opzione più sicura l'opzione da freno a mano no dice ok il mio avversario ha giocato alfiere C5 alla quinta mossa ho l'idea che sia molto preparato che abbia in serbo qualcosa per me io gioco alfiere B5 e rischio veramente poco ma diciamo non abbiamo noi scelto il gambetto belgrado no per tirare il freno a mano all'ottava mossa e allora tenetevi forte perché adesso entriamo veramente nel nella parte più interessante del video la mia proposta è donna D2 qual è l'idea di questa mossa allora innanzitutto chiaramente quella di arroccare lungo e diciamo raddoppiare sulla colonna D poi il bianco intende giocare se possibile donna F4 andando a minacciare cavallo F6 scacco e qui il nero qualunque modo riprenda finirà per avere un pedone doppiato in F6 e in più naturalmente il bianco si prepara ad avanzare il pedone con G4 G5 sostenuto appunto dalla donna e tentare un attacco sull'ala di re un attacco che adesso diciamo non è proprio così nelle corde della posizione no è chiaro che il bianco sta facendo uno slancio di fiducia nell'immaginare un attacco però è proprio questo spirito di gambetto che anima un po' la scelta del belgrado d'altra parte la difesa per il nero qui non è per niente facile cosa può fare il nero allora attenzione il nero può giocare diciamo varie mosse e come detto qui ci muoviamo su un terreno anche molto poco conosciuto quindi diciamo è difficile immaginare le risposte del nero però vediamo no il nero potrebbe giocare semplicemente D6 e dopo l'arrocco lungo del bianco qui l'idea del nero naturalmente nel momento di giocare D6 era ritardare l'arrocco corto altrimenti sarebbe soltanto una trasposizione e ad esempio il pedone D6 potrebbe essere utilizzato per cementare la posizione dell'alfiere e impedire che il bianco possa giocare cavallo F6 ecco questa è una posizione estremamente complicata e interessante il bianco può giocare tante cose può giocare innanzitutto H4 preparandosi al momento opportuno anche a giocare cavallo G5 e creare uno schema di sacrificio che mi interessa farvi vedere perché l'ho ritrovato in molte partite online onestamente partite a tempo rapido però con uno score mostruoso da parte del bianco H4 arrocco corto e il bianco gioca cavallo G5 voi direte a che cosa serve il nero gioca H6 il cavallo deve ritirarsi no non deve ritirarsi F4 il bianco decide di lasciare il cavallo lì alla praticamente fino alla fine della partita non lo ritirerà mai aspetta che il nero se ha coraggio giochi H per G5 e apre e apra la colonna H cosa che naturalmente nella maggior parte dei casi da un punto di vista pratico sancirebbe la sconfitta del nero quindi questa è una posizione che per il nero diventa estremamente difficile da giocare voi direte ok magari il nero deve giocare a H6 subito prima di arroccare no così il bianco non ha nessuna idea ma allora qui il cavallo non potendo più andare in G5 può riciclarsi in un altro modo molto sorprendente un po' Nimzovic cavallo G1 qual è l'idea di questa mossa così bizzarra di preparare F4 e poi ovviamente dopo opportuna preparazione G4 e utilizzare la falange di pedoni sull'ala di re per sfondare naturalmente se da un punto di vista oggettivo magari la cosa non è ottimale però da un punto di vista pratico è una una scelta veramente minacciosa e comunque in questa posizione il computer vede già un vantaggio del bianco ma apro e chiudo parentesi quindi ecco questa ritardare l'arrocco corto non sembra proprio una buona idea anche se il nero giocasse non so A6 per impedire alfiere B5 che abbiamo visto essere comunque una mossa cruciale per catturare in C6 e poi andare a riprendere finalmente il pedone D4 qui stessa cosa il bianco arrocca lungo nero gioca D6 e adesso arriva alla sequenza dei cambi si cambia tutto in D4 ecco questa posizione come giudicarla da un punto di vista strettamente oggettivo se fossimo in una partita per corrispondenza direi facilmente patta però è proprio così facilmente patta in realtà? Guardiamo un po' certo entrambi i colori hanno una loro semicolonna aperta il nero può piazzare una torre in E8 e premere sul pedone E4 e il bianco ha già la torre sulla semicolonna D. I pezzi sono uguali insomma non si vede grandi spunti di gioco però però vediamo che comunque il bianco ha un piccolo vantaggio di spazio questo è innegabile no? La sua azione si esercita nelle prime quattro traverse il nero invece è compresso su tre e l'azione su cui si svolgerà il resto della partita sarà probabilmente la quinta traversa quindi sicuramente più nello schieramento del nero sono piccole cose però se proprio io dovessi giocare questa posizione onestamente preferirei giocarla di bianco no? Il bianco ha maggiore libertà di spazio può avvicinare più facilmente il suo re perché adesso il nero come cosa fa? Dove mette il suo re? Deve arroccare ma insomma arroccare vorrebbe dire allontanare il re dal centro e il bianco ha sicuramente la possibilità di avanzare i pedoni oppure in alternativa di giocare una partita più posizionale no? Consolidare il pedone con f3 e qui il nero insomma farà un po' fatica ad esempio a ottenere un controgioco al centro con la pressione che il bianco può esercitare sulla colonna d e anche la risposta f5 insomma può essere pericolosa perché indebolisce alcune diagonali quindi l'alfiera ad esempio può andare in c4 e naturalmente agire su questa diagonale nel momento in cui il nero giocasse f5 sono idee molto generali ma insomma per dire proprio pari da poterci dormire sopra io questa posizione non la vedo ecco però diciamo il nero in questa posizione al di là come detto delle alternative a 6 di 6 insomma si può giocare tutto io direi che nella maggior parte dei casi un arrocco corto non si nega a nessuno ed è quello che giocherebbe e ha giocato online nella maggior parte di chi è arrivato in questa posizione arrocco lungo del bianco ok senza lasciarsi tentare dal fiere b5 donne f4 che hanno un qualche senso ma sono sicuramente premature e qui di nuovo sta al nero decidere cosa fare di 6 ricordatevi in qualunque momento il bianco può far partire questa questa combinazione che semplifica tutto e vedete torniamo praticamente alla posizione di prima in cui il nero ha semplicemente già arroccato il che non è detto neanche che sia un vantaggio perché perché come detto il re forse che stava in e8 avrebbe preferito mantenersi al centro non so sviluppare l'alfiere poi giocare re d7 il re in g8 invece che ne8 non è sicuramente un miglioramento della posizione qui torre 8 ok il bianco gioca f3 e poi e poi probabilmente il computer addirittura qui già suggerisce re f8 per centralizzare il re che che il nero appena spostato arroccando quindi sicuramente questa sequenza non è un miglioramento per il nero quindi tipicamente il nero cosa fa aspetta di scegliere le spinte di pedoni h6 d6 o a6 e va a giocare torre 8 chiedendo al bianco come intende a difendere il suo pedone naturalmente qui verrebbe non so spontaneo giocare al fiere d3 ma è proprio quello che il che il nero vuole perché adesso il nero può pian piano giocare d6 uscire con l'alfiere in g4 e via dicendo e completare il suo sviluppo il bianco al bianco rimane un certo compenso diciamo posizionale però sicuramente non è entusiasmante il bianco può fare di meglio e come può fare di meglio allora come detto una delle possibilità è un secondo freno a mano che ha a disposizione il bianco no sempre al fiere b5 dopo al fiere b5 però a differenza di prima il nero adesso anche la possibilità di giocare la torre in e di catturare in e4 e qui si aprono degli scenari combinativi veramente fantastici che io adesso non veramente non mi sento di di esplorare compiutamente perché sono veramente incredibili no il bianco potrebbe giocare h4 con l'idea appunto di giocare cavallo g5 e puntare all'apertura della colonna h d6 con l'idea al fiere g4 al fiere d3 il bianco ritira l'alfiere per controllare questa diagonale la torre torna indietro cavallo g5 h6 e qui di nuovo il bianco in qualunque momento può giocare f4 subito o prima dare scacco poi tornare indietro naturalmente il cavallo è sempre intoccabile e poi attaccare con g4 e via dicendo qui naturalmente come detto sono posizioni complicatissime in cui analizzare col computer serve relativamente a poco perché il computer vede magari un leggero vantaggio del nero da qualche parte immagina di poter andare a prendere il cavallo andare a prendere questo pedone e poi miracolosamente riuscire a difendersi con una sequenza veramente incomprensibile da un punto di vista umano entrambe le mosse sembrano scelerate naturalmente aprire la colonna g o aprire la colonna h in questo momento con il bianco in grande vantaggio di spazio sulla latire sembra veramente una scelta disumana quindi torre prende in e4 è possibile secondo il computer ma è veramente irrealistica d6 andando a prepararsi alfiere g4 e qui il bianco può sempre ricordate effettuare la sequenza di cambi che abbiamo visto prima con la differenza che adesso il nero non è tenuto a prendere in d4 ma può giocare anche lui torre e4 e qui la cosa si complica ancora il bianco può prendere in c6 qui è interessante vedere la sorprendente mosso dopo f3 attaccando la torre perché la torre vorrebbe andare in a4 e il bianco quindi prima di ritirare l'alfiere su questa diagonale vorrebbe attaccare la torre e rimuoverla da questa traversa ma incredibilmente il nero ha il contro colpo a6 con l'idea di sacrificare una qualità ma naturalmente l'apertura della colonna a e il compenso derivante dall'alfiere con la possibilità di avanzare questi betoni danno al nero un eccellente compenso che al di là di quello che dice il computer io non vorrei sperimentare in partita viva quindi qui niente f3 il bianco andrebbe a prendere in c6 sembra che guadagni una qualità attaccando contemporaneamente entrambe le torri per nostra sfortuna non è così perché torre b8 minaccia il matto e quindi il bianco è costretto a giocare c3 dopo di cui il nero può mettere in salvo la torre e questa posizione per quanto anche essa sia ragionevolmente pari sinceramente mi piace un pochino meno di quelle che abbiamo visto in precedenza perché comunque il gioco sembra svolgersi tutto nella metà campo del bianco quindi come dire in questa posizione il secondo freno a mano se proprio il bianco vuole giocare al fiere b5 farebbe meglio giocarlo all'ottava mossa e non alla decima insomma arrivato a questo punto è diciamo il bianco ormai ha bruciato un po di punti dietro le sue spalle e deve attaccare come fa g4 naturalmente minacciando g5 d6 l'unica praticamente difesa possibile adesso andare a prendere la torre il pedone 4 sarebbe scelerato perché il bianco con g5 caccia via l'alfiere e poi dopo alfiere d3 il bianco qui domina le diagonali la torre potrebbe ritirarsi soltanto in e6 ma è chiaro che è una torre destinata a essere catturata la minaccia alfiere f5 è enorme per il bianco quindi dopo g4 d6 g5 alfiere e5 quindi l'alfiere trova rifugio in e5 una situazione come vedete il nero si attacca si aggrappa la difesa del pedone d4 probabilmente nel far questo sta correndo veramente dei rischi perché ora è vero che l'attacco del bianco è abbastanza come dire ottimista però piano piano inizia inizia ad arrivare qui il bianco la mossa principale non è che quella che analizzeremo è h4 però il bianco anche delle alternative che io mi su cui invito a ragionare perché secondo me sono alternative molto interessanti da un punto di vista umano al di là di quello che magari può trovare il computer lasciato pensare per per ore qui ad esempio una mossa che mi viene in mente e che abbiamo già visto prima ma qui ci sta veramente bene è quella di giocare cavallo g1 per liberare l'azione del pedone f quindi il nero cosa fa deve dare una casa di rientro all'alfiere su questa diagonale deve giocare g6 ma attenzione perché g6 come potete immaginare offre già al bianco un punto di attacco per aprire la colonna h quindi f4 alfiere g7 alfiere d3 difendendo il pedone e4 e qui adesso voglio dire al di là di quello che dice il computer naturalmente la minaccia h4 h5 la vedono anche i ciechi ed è veramente difficile rimanere tranquilli in una situazione del genere il computer non si lascia spaventare vi voglio far vedere guardate tra le tante varianti questa che è veramente incredibile quando quando il computer l'ha sputata fuori stavo per cadere dalla sedia ma per farvi capire quanto la posizione sia complicata a 5 da parte del nero con l'idea naturalmente di giocare cavallo b4 e se il bianco prende in b4 può guadagnare un pedone ma naturalmente l'apertura della colonna è decisiva nelle posizioni di arrocchi eterogenei il bianco arroccato sull'ala di donna il nero sull'ala di re l'apertura delle colonne vale molto più di un pedone quindi a3 per impedire cavallo b4 alfiere e6 con l'idea insomma se è possibile di rimuovere questo cavallo che comunque molto fastidioso cavallo f3 e qui attenzione pronti al alla follia veramente del computer cavallo b4 poi direte ma come c'è il pedone in a3 ok prendi e qui adesso guardate dove il computer vede un compenso per quello che sembra un chiaro pezzo in meno c6 ok il cavallo non ha altre case di rientro deve andare soltanto in b6 benissimo c5 la donna deve muoversi torre a6 andando ad attaccare doppiamente il cavallo ok il cavallo torna indietro d5 attaccando il cavallo attaccando il pedone va bene il bianco cattura in d5 f3 d5 si attacca il cavallo si difende il cavallo e ora attenzione altro colpo tattico torre 3 attaccando un'altra volta il cavallo però voi direte ok ma così si sacrifica una qualità sì e adesso diciamo il sacrificio del del nero è diventato di una torre netta torre scacco scacco e qui quando ormai il bianco sembra avere una torre netta di vantaggio è pronto andare col suo re in al sicuro e dopodiché il compenso non ci sarebbe più torre a5 la donna è praticamente catturata a centro scacchiera cioè incredibilmente il bianco non ha non ha case in cui ritirare la donna è una situazione incredibile la donna ha una quindicina di case in cui poter andare ma nessuna di esse le permette di sfuggire alla cattura e nonostante questo ok qui il computer ha dato sfoggio di una combinazione di 12 mosse la posizione è comunque ancora del tutto giocabile perché è vero che adesso il nero ha guadagnato la donna ma in cambio della donna il bianco ha due torri quindi insomma la posizione è ancora molto complessa e qui il nero continua scacco con l'idea naturalmente di aprire linee contro il re bianco che al momento è leggermente più esposto donna b6 sfruttando questa inchiodatura torre d1 per difendere la donna intera torre alfiere 6 c4 donna c5 e qui diciamo il computer risolve nel modo più semplice andando a sacrificare un pedone e poi cambiando gli alfieri e una volta cambiati gli alfieri diciamo come abbiamo visto nei video dedicati ai finali è vero che il nero ha un pedone di vantaggio ma le due torri possono attaccare doppiamente il pedone cosa che invece il nero può difendere soltanto con un pezzo e quindi comunque il pedone di svantaggio è del tutto diciamo nominale perché se il bianco riuscisse a portare due torri sulla settima traversa anzi potrebbe lui iniziare a pensare di giocare per la vittoria quindi questa è una posizione in cui secondo me se proprio qualcuno rischia è il è sicuramente più il nero quindi giusto per far vedere questa questa tra le tante varianti diciamo che ho visto e scoperto analizzando questa posizione questa veramente meritava di essere di essere presentata comunque tornando indietro quindi ok torniamo indietro nella variante qui per dire cavallo g1 cavallo g1 è una mossa sorprendente veramente molto difficile da affrontare però continuiamo con la variante principale h4 h4 senza tante senza tanti indugi il bianco attacca qui il nero sostanzialmente si consolida soltanto in un modo cavallo e 7 rimuovendo a tutti i costi questo cavallo che in effetti è proprio il cavallo di belgrado il cavallo in d5 il cavallo è il pezzo più fastidioso poteva fare altro il nero beh si poteva venire in mente alfiere g4 per eliminare il cavallo in f3 ma insomma l'eliminazione del cavallo non è che risolve tutti i problemi il cavallo d5 rimane alla fine il computer vede sempre la necessità di cacciare via questo cavallo adesso con c6 quindi c6 e qui però il cavallo può rientrare tranquillamente e si ripresenta di nuovo la minaccia la minaccia f4 per il bianco quindi non è detto che il nero abbia ottenuto qualcosa a5 sempre con l'idea cavallo b4 ma adesso il bianco può giocare torre g1 proteggendo il pedone g e naturalmente puntando allo sfondamento altre mosse quindi non so alfiere e6 anche qui h5 il bianco è sicuramente in vantaggio quindi cavallo e7 la mossa consigliata dal computer e qui diciamo c'è poco da fare questo cavallo non può fare niente il bianco coglie l'occasione finalmente per recuperare il suo pedone di gambetto in d4 cambio in d5 e qui questa posizione diciamo la mossa umana che mi mi dicesse ok ai tre secondi gioco una mossa g6 naturalmente per dare all'alfiere di nuovo la casa di rientro se il bianco giocasse f4 perché perché andare a catturare in d4 si è possibile ma insomma cedere completamente il controllo di questa diagonale con l'idea che il bianco un giorno potrebbe riuscire ad aprire la colonna h insomma non è umanamente facile quindi g6 con l'idea f4 alfiere g7 e qui la posizione è tutta da giocare h5 qui il bianco ad esempio ha già grandi idee di sacrifici di qualità non so se il nero giocasse alfiere g4 e beh qui adesso va tutto calcolato però qui fosse il bianco intanto permetterei h per g6 perché la torre naturalmente è intoccabile dopo h per g6 insomma capite bene che qui diciamo l'apertura della colonna h da al bianco qualcosa di interessante per cui pensare quindi g6 che è la mossa più ovvia ci farebbe piacere affrontarla in partita purtroppo per noi il computer non è così collaborativo e ha tirato fuori una mossa veramente sorprendente la mossa di la verità ha così a naso sfuggirebbe completamente dalla mia vista la mossa h5 voi direte ma come a tutti i principianti si insegna di non muovere i pedoni davanti al proprio arrocco mentre il bianco sta attaccando da quella parte e qui il nero gioca addirittura h5 ma come è possibile allora il primo punto è che naturalmente la presa in passà non va bene perché il nero con donna f6 guadagna materiale attacca naturalmente due volte il cavallo attacca il pedone f2 e soprattutto minaccia alfiere f4 andando a catturare la donna e qui il bianco non ha modo di salvare tutto anche perché alla fine un'eventuale doppia cattura in d4 permetterebbe poi alla fine al nero di dare uno scacco potenzialmente fatale n1 quindi non so se qui il bianco giocasse re b1 con l'idea di scusate re b1 con l'idea di sottrarsi ad alfiere f4 qui il nero andrebbe a catturare due volte in d4 e poi darebbe lo scacco matto sulla prima traversa quindi qui il bianco non si salva quindi non potendo giocare la presa in passà allora iniziamo a questo punto a capire un po l'idea del nero perché adesso a questo punto se il nero giocasse g6 nelle prossime mosse ecco qua che tutta la speranza che aveva il bianco di aprire la colonna h anche se rimane qualche speranza di poter un giorno magari sfondare tatticamente no di magari sacrificare un pezzo per aprire la colonna h quella come dire un'opzione che rimane sempre però oggettivamente diciamo il bianco non avrebbe più nulla quindi alfiere c4 sviluppare ok si potrebbe anche giocare l'immediata f4 questo è vero no dato che adesso il nero non ha più una casa di rientro dovrebbe andare a catturare in d4 però dopo alfiere g4 andando ad attaccare la torre ora naturalmente sacrificare la qualità non è più così ragionevole non avendo più la colonna h ad aprire e quindi il bianco dovrebbe rassegnarsi alfiere d1 e seguire questa sequenza di mosse e qui diciamo la posizione sembra pari ma onestamente bisogna essere onesti il nero leggermente preferibile dopo donna e 2 e il nero il primo occupare la colonna e minaccia non so anche donna g4 attaccando questo pedone di lato il bianco patta ma deve essere molto vigile deve giocare f5 con l'idea di giocare subito f6 e diciamo e dare fastidio al nero prima che il nero possa giocare tutte le mosse che desidera ecco qui non so il nero deve naturalmente guardarsi dall'attacco del pedone a7 quindi avanzerebbe il pedone a3 per dare una casa di fuga al bianco dopo b5 ecco qua arriva f6 e naturalmente il le cose si mettono male se il nero giocasse g6 per cercare di tenere tutto chiuso beh insomma qui sarebbe un pochino pericoloso perché naturalmente se la donna bianca in qualche modo riuscisse ad arrivare in e7 insomma le cose qui si metterebbero male e comunque il nero farebbe molta fatica a entrare con il re in azione in un eventuale finale non so di pezzi pesanti di sole torri faccio un esempio quindi f4 è sicuramente un'idea ragionevole più interessante se si vuole continuare a giocare è alfiere c4 perché perché adesso diciamo se il nero vuole catturare in d4 può farlo ma il bianco non ha perso tempo diciamo a giocare f4 con l'idea anche che il pedone f4 abbiamo visto che può essere debole sulla quarta traversa il nero invece prende in f4 con l'idea di poter giocare alfiere f5 che prima era controllata dal cavallo e qui cosa può fare il bianco allora nonostante tutto il bianco deve stare un pochino attento e la cosa migliore che può fare è rientrare con l'alfiere e forzarne il cambio il nero può cercare di mantenere la tensione presa in f5 torre 1 e qui diciamo adesso la parità è molto più evidente no perché il nero non può più andare ad attaccare il pedone h4 che è difeso dalla donna le due donne sono entrambe abbastanza centralizzate la colonna è contesa quindi insomma tutto sommato la posizione qui è davvero pari in modo più comodo l'unica variante che mi sento di poter di dover ancora analizzare se il nero volesse provare a premere sull'acceleratore mettiamo il nero non si accontenti della patta giochi torre 5 no con l'idea di occupare la colonna e e qui di nuovo la presa in e5 è possibile però secondo me questa transizione del pedone da d6 in e5 favorirebbe il nero che comunque avrebbe secondo me qualcosa in più per cui lottare no potrebbe avanzare il pedone potrebbe attaccare il pedone d potrebbe sostenere a solito il pedone e secondo me questa transizione favorirebbe il nero e quindi proprio per questo motivo la cosa migliore è a questo punto tornare a giocare f4 naturalmente approfittando del fatto che ora però il nero deve catturare ne1 e quindi la colonna e rispetto a quello abbiamo visto prima è passata nelle mani del bianco quindi se adesso il nero non so provasse ad andare ad attaccare il pedone h4 ok il bianco potrebbe difendere tutti i pedoni e di nuovo continuare a utilizzare la colonna e f8 non so magari con l'idea di giocare torre 8 protetta da re va bene f5 come abbiamo visto f5 f6 e le cose insomma il re nero inizia a essere un pochino in ristrettezza qui ad esempio se il nero giocasse g6 ok addio perché qui donna e3 donna e7 scacco e qui diciamo si inizia a vedere il matto no ok quindi l'idea diciamo giocare g6 qui è folle anche se devo dire è una tentazione quindi il nero deve catturare in f6 però di nuovo adesso la minaccia donna e7 con la sequenza di scacchi che fanno cadere il pedone è forte e quindi il nero deve entrare in difesa lasciando la donna lì e qui diciamo adesso le cose sono un pochino cambiate adesso il bianco che sicuramente ha la donna più attiva e minaccia di fare piazza pulita dei pedoni naturalmente il nero sta anche minacciando però scacchi e contro scacchi sull'ultima traversa e qui infatti la cosa migliore è giocare c4 difendere il pedone e dare anche un percorso di fuga per il per il re in cui magari potersi nascondere dagli scacchi del nero quindi ecco una posizione ancora pari ma ancora tutta da giocare e qui insomma con la donna così attiva io la preferirei da giocare con il bianco quindi rivediamo un attimo tutto quanto è stato detto insomma questo è come detto il mostro finale del gambetto belgrado la variante più ostica anche se una delle meno giocate sorprendentemente ostica alfiere c5 quindi andando a difendere rocciosamente il pedone d4 abbiamo visto alternative ma alfiere g5 naturalmente sfruttando questa inchiodatura sembra l'opzione migliore il nero deve tornare con l'alfiere indietro qui si introduce come detto la minaccia cavallo d5 da parte del nero che può andare a ricatturare poi l'alfiere tornando indietro e salvando il pezzo quindi il bianco deve catturare in f6 e qui due opzioni il freno a mano l'opzione di sicurezza alfiere b5 con l'idea di cambiare subito in c6 cambiare in f6 e catturare in d4 e chiedere al nero che cosa intende fare se il nero pensa di poter pattare agevolmente cambiando in d4 ok benvenuto e magari scoprirà che in questa posizione il il le cose non sono così facili esempio ecco torre 8 f3 f5 sembra sfruttare no l'inchiodatura ma re f2 cambio in e4 e qui attenzione torre 1 e il bianco può andare a riprendere il pedone perché naturalmente il pedone non può muoversi appena la perdita della della torre quindi magari in questa posizione con il bianco già inizierei a pensare di giocarmela per la vittoria no perché dopo i cambi in e4 il bianco tiene un pedone in e4 passato che insomma male non fa ecco se invece il nero si dimostra un pochino più combattivo ma difficile da spensarlo dopo le mosse che ha giocato potrebbe giocare donna f4 abbiamo visto o donna h6 allora donna f4 serve a poco perché il bianco con donna e5 forza il cambio delle donne appena la perdita del pedone c7 dopo donna h6 qui il bianco deve appunto pensare a come consolidare la sua posizione quindi pensare alla spinta in f3 a muovere il cavallo in d4 e la donna quindi in c3 o in e3 arrocco corto torre 8 torre 1 b6 per prevenire quindi donna c3 c5 quindi il bianco va in e3 e se nero vuole evitare il cambio delle donne allora cavallo d4 chiude la diagonale prepara f3 e il bianco si consolida e la posizione ancora molto interessante con chance da entrambe le parti ok questa è l'opzione freno a mano se invece il bianco vuole giocare più combattivamente e noi siamo abbiamo giocato il bel grado per questo allora donna d2 con l'idea donna f4 arrocco corto e attacco del pedone g4 g5 arrocco corto come abbiamo visto delle alternative nessuna di esse è particolarmente minacciosa e qualcun'altra la trovate anche nel file allegato pgn a questo video e qui arrocco lungo torre 8 d6 a 6 h6 sono tutte mosse possibili ma male che vada ricordate che il bianco ha sempre alfiere b5 cambio in c6 cambio in f6 cattura del pedone d4 e si va a stare un pochino meglio torre 8 invece il nero chiede subito al bianco come intende difendere il pedone e4 la risposta è in nessun modo andando ad attaccare con g4 g5 ora andare a catturare e4 sarebbe scellerato abbiamo visto no che la torre non ha più una casa di rientro e quindi il nero deve giocare d6 g5 alfiere e5 e qui e qui è una posizione in cui vi dovete spero con piacere divertire ad analizzare perché perché il bianco ha veramente molte idee interessanti una vi ho segnalato sorprendente cavallo g1 con l'idea f4 e se qui il nero appunto deve giocare sostanzialmente g6 può giocare anche f5 secondo il computer ma insomma voglio dire non mi sembra proprio la prima mossa che viene in mente in questa posizione l'idea del nero è giocare f4 sacrificare il lasciare quindi l'alfiere in presa naturalmente perché perché se l'alfiere viene lasciato in presa la massa di pedoni centrali e il fatto che il cavallo non ha sostanzialmente facili case di rientro danno al nero il vantaggio però insomma non è così facile o qui il bianco può anche andare a prendere in f5 e giocare continuare a giocare f4 e insomma voglio dire l'attacco rimane sempre nelle mani del bianco però insomma f5 non è una mossa facile molto probabilmente si gioca g6 con l'idea di ritirare la fiera in g7 e qui si difende il pedone e4 e si prepara la spinta h4 h5 praticamente facendo qualunque cosa faccia il nero abbiamo visto come il computer ha trovato una mostruosa variante che inizia con a5 e dopo a3 prevede il sacrificio del cavallo in b4 per andare poi a bloccare la donna in b5 una tozzina di mosse dopo va bene insomma non sono cose di cui possiamo preoccuparci in partita viva e comunque anche su quella abbiamo visto che il nero non va più là della parità cavallo g1 quindi è una delle sotto idee sorprendenti che vi segnalo con piacere altrimenti h4 h5 è l'idea del bianco e qui il nero si salva soltanto giocando cavallo e7 e dico si salva perché qui appunto se il nero non sta attento viene travolto cioè qui il nero non so se ne esce con una mossa come a5 sempre con l'idea di giocare cavallo b4 e qui il bianco può giocare rinforzare l'attacco con torre g1 eccetera eccetera ma ci sono anche mosse veramente sorprendenti come esempio l'immediata g6 alfiere c4 voi direte qual è l'idea che dopo alfiere g4 ad esempio cavallo g5 andando a sacrificare la qualità e qui buona fortuna per il nero a difendersi in questa posizione h5 la minaccia su f7 insomma qui veramente il bianco ha un attacco mostruoso poi di nuovo il computer naturalmente si salva sempre però ecco in questa posizione g6 è veramente molto interessante oppure è semplicemente torre g1 e si continua l'attacco insomma qualunque cosa faccia il nero il bianco veramente molti modi di continuare l'attacco il nero deve quindi subito contestare la presenza del cavallo in d5 quindi il nero è veramente appeso a un filo si cambia un po di pezzi e qui di nuovo se il nero gioca ragionevolmente con g6 dopo f4 la posizione ancora tutta da giocare la mossa più complessa da affrontare è h5 una mossa veramente sorprendente da parte del nero come detto la presa anpassan non è possibile per donna f6 con minacce enormi quindi il bianco è costretto a continuare a sviluppare i suoi pezzi qui il nero va a cambiare in d4 può anche giocare altre cose ma insomma nulla è particolarmente minaccioso alfiere g4 torre 1 insomma più o meno rimane sempre lo stesso schema se il nero va a cambiare in d4 con l'idea di sviluppare l'alfiere in f5 altrimenti questo alfiere non si sviluppa mai ecco qui il bianco può anche continuare a giocare torre 1 e via dicendo però secondo me tra i due alfieri adesso mi viene da dire che l'alfiere nero è più attivo l'alfiere in c4 non ha futuro ormai in questa diagonale quindi tanto vale proporne il cambio il nero può naturalmente cambiare direttamente ma insomma mi pare sensato per il nero cercare di completare lo sviluppo si cambia in f5 quindi la donna in f5 in effetti è un pochino più attiva della donna in d4 e anche qui quindi il bianco deve stare attento torre e 1 contestando subito la colonna e e qui la posizione è abbastanza equilibrata l'unica variante secondo me come detto merita attenzione se il nero gioca torre e 5 sfidando il bianco alla cattura del della torre per spostare il pedone da d6 e n5 io vi consiglio di evitare i cambi strutturali in questa posizione giocare semplicemente f4 costringe il nero a cambiare ne uno e adesso il bianco che ha la colonna e insomma è decisamente meglio donna g4 certo si minaccia il pedone la donna è costretta a rientrare in difesa ma la cosa è solo momentanea perché adesso il nero che deve pensare naturalmente a come impedire mosse come torre e 7 quindi re f8 controlla e 7 e prepara il cambio delle delle torri il bianco non deve naturalmente cadere nella passività passività e gioca subito f5 f6 e qui di nuovo è il nero che deve stare molto attento sequenza di scacchi e naturalmente adesso la minaccia donna e 7 scacco è molto forte il nero deve tornare in difesa scacco e poi con c4 diciamo sì è il bianco che torna di nuovo ad avere il pallino del gioco come vedete la posizione è veramente molto ricca molto complicata con grandi momenti di attenzione per entrambi i giocatori vedete entrambi i giocatori testano le risorse dell'avversario lo sfidano lo saggiano mettono alla prova la sua comprensione strategica la sua capacità di capire le piccole finezze di cambi strutturali insomma sono posizioni molto ricche poi vedete ok se il nero però sa tutto e questa posizione è patta sì allora in assoluto sono passate 29 mosse e buona fortuna a giocare questa partita probabilmente insomma non verrà mai giocata no questa variante così come l'abbiamo vista serve soltanto a capire a esplorare le risorse della posizione sono elementi sono pattern sono concetti che poi dopo si applicano magari in contesti leggermente diversi no cioè la posizione non sarà mai perfettamente uguale ma non sarà mai neanche completamente diversa se stiamo giocando questa variante e questa sotto variante quindi questo è il primo punto il secondo punto è che come detto è patta ma non è cioè pari ma non è patta nel senso qui è ancora tutto da giocare io sono convinto che questa posizione sia vincibile e perdibile con entrambi i colori e con qualunque avversario c'è la posizione ancora molto ricca molto molto interessante per quanto siamo arrivati insomma in un finale di sole donne e ripeto dopo ormai 29 mosse di teoria quindi a conclusione di questo lungo viaggio no perché adesso magari dedicherò altre puntate al gambetto belgrado magari facendolo vedere in azione in alcune partite a tempo medio lungo no per apprezzarne per mettere alla prova anche il nostro repertorio in partita viva però ecco ci tenevo quindi a concludere con questa che era la variante più complicata che in verità diciamo avevo in servo già da tanto tempo però diciamo pur essendo l'ho lasciato per ultimo sia perché la più complessa no da da affrontare e mette un po alla prova il nostro spirito di gambetto no perché come avete visto qui insomma i rischi per il bianco in alcune sotto 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 varianti ci sono insomma bisogna stare un pochino attenti o vi ho dato la variante di sicurezza quella di freno a mano al fiere b5 all'ottava mossa perché non vuole rischiare niente se si decide di attaccare naturalmente qualcosina si rischia e poi perché la variante diciamo meno giocata anche in torneo anche se online naturalmente la l'avidità nel tenere il pedone d4 è abbastanza propria dei giocatori online specie insomma non di livello magistrale perché a volte non ci si rende conto insomma dei pericoli di di ostinarsi alla difesa del materiale quando in verità il compenso è quello che poi dopo rende la posizione giocabile e agonisticamente valida in partita viva ok quindi spero davvero di aver concluso questa serie che sia stato di vostro gradimento quella del gambetto belgrado come detto la vedremo in azione ci se sarà necessario insomma farò delle rifiniture sul repertorio proposto quindi insomma mi affido anche a voi per i commenti per domande e per varianti che secondo voi non hanno ricevuto la meritata attenzione nell'esplorazione del gambetto belgrado e ci rivediamo insomma in partita viva con il gambetto giocato magari in una delle prossime partite che condividerete con me insomma giocando online vi ringrazio come al solito per l'attenzione e alla prossima ciao